ciao a tutti ragazzi bentornati nel canale musica spiegata oggi andiamo a tradurre un testo di una band che ha fatto la storia del rock pop degli ultimi anni dagli anni 90 ai 2000 e la band in questione sono appunto gli oasis con una delle canzoni che appunto hanno fatto la storia della band che si intitola wonderwall che è uscita nel 1995 questa è una delle canzoni più famose degli oasis wonderwall che significa il puro delle meraviglie è una parola no sense senza significato reale ma scelta come omaggio a george harrison chitarista dei beatles scritta da noel disse non so da dove provengono gli accordi ma ricordo la cosa di harrison you are my wishing stone quindi tu sei tu sei la mia tu sei la mia la pietra che che io voglio ma non suonava bene dove la pietra desiderata significato che comunque è molto molto difficile da tradurre ma non suonava bene appunto dove abitavo avevo un po stia di wonderwall e così pensai you are my wonderwall suona suona fantastico nessuno saprà cosa significa come abbiamo detto il testo appunto intitolava in origine wishing stone poi fu cambiato il titolo in onore di george harrison che nel 68 aveva pubblicato wonderwall music la colonna sonora del film wonderwall leggenda vuole che la canzone sia stata scritta da noel per meg matthews all'epoca fidanzata e futura moglie oggi ex moglie a distanza di anni ha smentito categoricamente dicendo che il brano parla di un amico immaginario che arriva a salutarti da salvarti da te stesso ma che non hai mai avuto il coraggio di dirlo ma che non hai mai avuto il coraggio di dirlo a meg una volta che su tutti i giornali esce scritto che quella canzone è per la tua ragazza anche lei lo legge poi che il coraggio va a dirle che non è così quindi quando uno dice anche una falsità ma la dicono in tante persone alla fine diventa una verità e questo appunto è il succo di come è nato di come è nato questo capolavoro appunto wonderwall che significa muro delle meraviglie che non ha molto significato inizia dicendo today is gonna be the day quindi oggi sarà il giorno the day that they're gonna throw it back to you eh che te lo risideranno te lo rinfaceranno te lo daranno indietro by now you should have somehow ora tu dovresti eh avere in qualche modo realize what you got to do realizzato cosa tu devi fare I don't believe that anybody non credo che nessuno feels the way I do I do about you know eh sente cosa io provo per te ora backbeat the world is on the street allora il backbeat specialmente nella musica rock è un'enfasi su uno due battiti che normalmente non sono enfatizzati oppure si può tradurre come rumori di sottofondo perché beat è rumore back è dietro quindi rumori sottofondo the world is on the street eh si vocifera si dice in giro that the fire in your heart is out che si è spento il fufoco nel cuore eh I'm sure you have heard it all before sono sicuro che l'abbia già sentito prima but you never really had had about ma non ho mai avuto un dubbio eh I don't believe that anybody non credo che nessuno feel the way I do about you know sente è quello che provo io ora and all the roads we have to walk our winding e tutte le strade che dobbiamo percorrere sono winding vuol dire tortuose serpeggianti a zig zag quindi tutte le strade che dobbiamo percorrere sono tortuose and all the lights that lead us there are blinding e tutte le luci che ci guidano sono acceganti there are many things that I quindi ci sono molte cose che io would like to say to you vorrei dire a te but I don't know how ma non so come because maybe perché potrebbe essere you're gonna be the one that saves me che sarai tu l'unica che mi salva and after all e dopo tutto you are my wonderful sei il mio muro delle meraviglie today was gonna be the day oggi sarebbe il giorno but they never threw it back to you ma non te lo rinfacceranno mai by now you should have somehow ora dovresti avere in qualche modo realize what you are not to do realizzato cosa non devi fare I don't believe that anybody non credo che nessuno feels the way I do about you know che senta quello che io provo adesso per te ora e quindi questo è il test wonderful vi invito ad ascoltarlo con la traduzione in modo che si possa imparare anche soltanto una parola in più in inglese e questo è lo scopo del canale musica spiegata appunto vi invito a mettere un mi piace o comunque a iscrivervi al canale e a tutti i malati di musica come me quindi con gli oasis wonderful è tutto alla prossima ciao